caos forse non c'è termine migliore per cominciare questa carrellata tra di piccole etimologie diciamo così per fare un po di chiarezza su alcuni termini che noi siamo abituati a usare nella nostra quotidianità e che hanno origini molto antiche hanno origini in quel mondo classico a cui è dedicato il nostro festival caos peraltro una parola molto appunto che credo ricorra molto nei nostri vocabolari in questi giorni una parola che ci fa subito immaginare uno stato di disordine completo un disordine quasi vorticoso ma le origini non era proprio questo il significato di caos caos viene da una parola greca che è kasma che significa divaricatura apertura quindi voragine abisso casma viene da caino casco che appunto vuol dire aprire spaccarsi spalancarsi quindi squarciarsi lo squarcio è il caos diciamo dunque il caos non è tanto né il vortice né il disordine ma un vuoto un'apertura un abisso profondo di cui non si sa non si conosce la natura perché sostanzialmente è vuoto eppure eppure questo questo caos secondo le le antiche visioni che di nascita del mondo secondo la teogonia di osì di esiodo fondamentalmente il caos è all'origine di tutto vi leggo i versi dedicati a caos da esiodo in principio fu caos poi subito gea dall'ampio seno per sempre si cura dimora di ogni cosa e quindi eros il più bello fra gli dèi immortali che scioglie le membra e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nei petti la mente e l'assenato consiglio vedete c'è caos all'origine caos insieme a gea terra come ci si può spiegare questa questa situazione come caos può generare tutto ciò che noi vediamo gli alberi le cose gli esseri umani tutto quello che poi costituisce la natura del nostro mondo e del nostro cosmo che significa appunto ordine poi sul caos e ce lo possiamo spiegare facendo riferimento al termine che al terzo termine che viene chiamato in causa da esiodo ovvero sia eros di cui parleremo eros significa nell'antichità sì amore ma amore non in senso sessuale come siamo abituati a dire oggi più che altro passione passione tracimante passione che ci che ci porta via una passione che ha ai limiti del bisogno del del bisogno che quindi ha a che fare con la mancanza platone ci dice che l'eros questa passione che ci attraversa l'anima ci spinge a cercare ciò che ci manca ci spinge a a guardare nel vuoto a guardare nell'abisso ci spinge a sporgerci su ciò che ci che appunto sentiamo di che che ci manca e in fondo quando ci innamoriamo viviamo questo uno squarcio nel petto una ferita qualcosa che sentiamo che 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 dobbiamo riempire ecco forse in questa in questa idea antica sta la soluzione di quello che sembra un po l'enigma di questi verbi scusate di questi versi di esiodo la la divaricazione la voragine l'apertura costituita dal dal caos nella terra gea e eros l'amore l'amore che si sporge nell'abisso che esiste proprio grazie alla mancanza che va a generare tutte le cose che sono da il caos quindi è quel vuoto ricco di futuro quel vuoto che ci spinge a creare come poi diventa caos e il disordine beh qui le 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 disordine vorticoso qui le idee sono tante io credo che si debba comunque sempre far riferimento a platone che nel timeo parla di caos come quella materia informe no prima che il principio ordinatore del demiurgo ovvero sia di una mente superiore costituisca le cose crei le cose come 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 sono nella loro individualità nel loro ordine nella loro armonia quel momento in cui il dio assente dice platone rimandando a un'idea appunto di disordine in cui però la la materia c'è la materia è esiste no non c'è più il vuoto di esiodo del significato originario del termine credo che poi da qui sia iniziata una una tradizione che poi con i latini vede nel caos diciamo così più che altro il disordine e non tanto il vuoto originario ma noi dobbiamo tenere a mente il vuoto perché il vuoto significa desiderio volontà di superare quel vuoto di riempire quel vuoto quindi volontà di andare avanti di farcela